Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. 225 metri sospesi nell'aria, completato questa mattina nella sua parte strutturale con il montaggio dell'ultimo strallo, il ponte dell'asse nord-sud. Ce ne parla Serena Russo. 225 metri sospesi nell'aria succederà tra una decina di giorni quando le opere previsionali di sostegno saranno sganciate dal ponte dell'asse nord-sud da questa mattina completo, almeno nella sua parte strutturale. Alle nove in punto, sotto gli occhi del sindaco Antonio De Caro e dell'assessore comunale ai lavori pubblici Pino Galasso, è stato infatti montato l'ultimo strallo che insieme agli altri sosterrà tutto il peso dell'opera. Bisognerà attendere i tempi tecnici per eventuali assestamenti e cedimenti. Poi, come ha detto il primo cittadino, il ponte che collega la città con il resto della terra di Bari sarà realtà. Uno dei pochi in Europa nel suo genere è importante non solo in relazione al miglioramento della viabilità cittadina, ma anche da un punto di vista architettonico. La speranza adesso è che diventi uno dei nuovi simboli del capoluogo pugliese. Oggi è un momento importante perché completiamo una fase importante della costruzione della struttura di questo ponte. In modo particolare realizzeremo l'ultimo strallo, cioè monteremo, solleveremo l'ultimo strallo, l'ultimo dei 30 stralli che costituiscono l'ossatura portante di sostegno di questo ponte. Poi si procederà a metterli in tensione e poi il ponte rimarrà sospeso? In realtà si metterà in tensione solo l'ultimo perché gli altri sono già in tensione e il ponte sarà sospeso tra qualche giorno quando verranno rimossi i sostegni provisionali che sono presenti già sotto. Vendevano opere d'arte di autori contemporanei tra cui Mario Schipano, Nino Caffè, così come degli altri artisti come Scheggi, Borghese, Alinari, Dorazio e Guidi. Ma si trattava di falsi. La scoperta dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Bari che hanno sequestrato in Italia ben 386 dipinti. Sotto inchiesta il curatore dell'archivio di uno degli artisti responsabile di aver contraffato le autentiche che accompagnano le opere d'arte e il falsario che aveva il compito di riprodurre fedelmente le opere originali. 35 in tutto le persone indagate. L'operazione spiega una nota della procura e è stata disposta per contrastare il fenomeno diffuso della contraffazione delle opere d'arte. Prosegue in queste ore l'attività della Guardia Costiera di Bari sulla vendita abusiva di frutti di mare dopo il maxi sequestro di ieri del molo San Nicola di cozze e mitili. I controlli si allagano su tutto il litorale a tutela della salute dei consumatori come dichiara il comandante Tosmaso Gismonni. Sentiamo. Le operazioni ovviamente proseguono tutto l'anno non solo in questo settore, tutta la filiera della pesca. Questi comportamenti ovviamente che ledono e possono ledere la salute dei cittadini, delle persone, sono violazioni che noi sanzioniamo durante tutto l'anno. Ma non solo questo. Ovviamente comportamenti anche contro l'ambiente. Tutto quello che riguarda la pesca che è in contrasto con le norme a tutela del consumatore. Ecco, il consiglio appunto ai consumatori è di non acquistare frutti di mare per strada da abusivi. Assolutamente. Questi frutti di mare erano conservati lì, pronti, non sappiamo la provenienza, e diretti verosimilmente alla loro commercializzazione. Quindi un danno vicino, come si diceva, a uno scarico di fogna bianca, ma in un posto, in un tratto di mare portuale, ovviamente non sicuramente salubre, non sicuramente igienicamente corretto. Fino a questo momento nessuno ha reclamato i sacchetti di cozze, la sanzione sarebbe molto elevata. Ebbè sì, sicuramente parliamo di pseudo pescatori, di pseudo, insomma, non è assolutamente conveniente dichiarare la proprietà di questo prodotto. Ancora cronaca, hashish e marijuana, confezionati in dosi e pronte allo spaccio, sono state sequestrate ieri sera dalla polizia in Piazza Umberto durante i servizi di contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina e delle attività illecite. Espulsi dall'Italia anche cinque extracomunitari regolari sul territorio, una trentina le persone controllate. Una richiesta ufficiale per conoscere il futuro della sede AMGAS SRL. Il consigliere d'opposizione Fabio Romito pretende chiarezza sull'argomento e in consiglio comunale promette battaglia. Una richiesta ufficiale per conoscere il futuro della sede dell'AMGAS SRL, le condizioni di quella attualmente utilizzata e i relativi costi. Fabio Romito, consigliere di opposizione al Comune di Bari, mette nero su bianco le istanze, stanco di aspettare in vano e promette in consiglio comunale sarà battaglia. Torniamo a parlare della struttura di Cagno a Brescia che dal 2008 accoglie nei locali dello storico istituto scolastico gli uffici della partecipata. Un immobile però urbanisticamente non adatto al suo attuale utilizzo, ci spiegava telecamere spente la stessa presidente, Rosalba Cirillo. Tant'è che nelle idee future anche quella della pubblicazione di un bando, il terzo negli ultimi anni, per reperire nuovi uffici. In alternativa rimanere in corso al Cide de Gasperi. Sì ma a che prezzo? È presto detto 80 mila euro più riva l'anno, una cifra decisamente importante per una sede che addetta degli stessi fruitori è scomoda e poco funzionale agli obiettivi. Non è un caso che dalla partecipata erano già partite richieste per un immobile comunale, ma come confermato dall'assessore al patrimonio Vincenzo Brandi, al momento di disponibili non ve ne sono. Che succederà quindi? Celebrare le edicole votive di Bari Vecchia per recuperarle, assistere e adottarle alla peculiarità del reading poetico Versi alla Luna, la manifestazione inserita in omaggio a Bari. Il progetto ideato e coordinato da Vito Signorile è promosso dalla Commissione Consigliare Cultura del Comune di Bari. Il 22 maggio, giornata di luna piena alle 17.30, una carovana votiva composta da attori, musicisti e poeti partirà dal Teatro Margherita e percorrerà le stradine di Bari Vecchia in un percorso ricco di edicole. Nelle tre tappe previste, gli artisti declameranno le proprie opere poetiche. Nuova mobilitazione contro la riforma della buona scuola domani in tutta Italia. A Bari è tra le piazze dove il personale docente e personale tecnico aderiranno alla manifestazione nazionale organizzata da CGL Cisle e Will. Il servizio è di Cristina Ferrini. Scenderanno nuovamente in piazza domani insegnanti e operatori scolastici per la manifestazione nazionale organizzata da CGL Cisle e Will contro le novità introdotte dalla buona scuola. Dopo un anno dalla mobilitazione generale del 5 maggio i sindacati si riorganizzano e scendono in piazza con il nuovo slogan La legge sulla buona scuola viene ribattezzata legge della pessima scuola. Tanti i punti su cui le sigle sindacali rivendicano una modifica dell'ordinamento tra cui il mancato rinnovo del contratto dei presidi fermo a sette anni fa. Se pensiamo che ai presidi è stato bloccato il contratto per sette anni mancherebbero in tasca oltre 400 euro al mese e le scuole sono in reggenza. Noi abbiamo per esempio a Pordenone un preside che gestisce 17 scuole. Inaccettabile riferiscono i sindacati la proposta di aumento in busta paga di soli 7 euro al mese per i dipendenti della pubblica amministrazione nella cui categoria rientrano gli insegnanti. Nuovi contratti di lavoro per restituire dignità alla categoria. Noi non accettiamo categoricamente la proposta del governo di aumentare le retribuzioni di sole 7 euro l'orde pro capite. I lavoratori sono a scuola dalla mattina alla sera e questo non era previsto e questo impegno, questa passione devono essere riconosciute. In queste ore si sta discutendo della questione del bonus premiale ai docenti che sta operando effetti di divisione nel corpo docente. Una visione che è esattamente antitetica a quella che noi da sempre professiamo perché noi siamo per una scuola di tipo inclusivo. Per il secondo anno di seguito Bari ospita i tour operator svizzeri per promuovere l'esperienza elvetica in Puglia. Sentiamo di cosa si tratta. Non capita spesso che quattro operatori turistici si riuniscano per promuovere l'esperienza di una regione in un unico pacchetto culturale. E' nato così il Grand Tour del Gusto e dell'Acqua che consente di conoscere le bellezze della Svizzera attraverso laghi, castelli e prodotti enogastronomici. 1600 chilometri da raggiungere in otto giorni sul Berina Expresso o in Battello, seguendo il percorso dell'acqua e dei suoi fiumi, laghi e ghiacciai. A farne un resoconto Piccarda Frulli, vice direttore di Svizzera Turismo Italia. La Puglia rientra in quella selezione di Sud Italia insieme alla Sicilia, insieme anche alla Puglia, che hanno sicuramente un potenziale di turismo verso il nostro paese. Questo prima di tutto perché ci sono dei collegamenti aerei con la Suisse e questo naturalmente agevola il trasferimento dei turisti dal sud verso il nord e verso la Svizzera. Poi sicuramente anche perché c'è un collegamento anche culturale e anche storico, perché dal sud Italia c'è stata una forte migrazione verso la Svizzera e quindi questo ha creato uno scambio anche culturale tra i due paesi. Per agevolare i collegamenti tra la Svizzera e la Puglia, Swiss International Airlines ha anche incrementato le rotte settimanali dalle aeroporti di Bari e Brindisi. Il commento di Stefan Zvichi, direttore della compagnia aerea. Per noi Swiss è il 2016 un anno molto importante perché abbiamo iniziato con questi voli l'anno scorso, quindi era anche in base a un test vedere un po' come si sviluppa la zona, la regione e devo dire che appunto in base ai risultati abbiamo riconfermato quest'anno i due voli. Cioè abbiamo un volo su Bari-Palese e l'altro su Brindisi, sempre quattro volte la settimana. C'è un lieve aumento durante la stagione, parliamo di luglio-ferro-agosto dove appunto i flussi sono molto intensi, però per noi è importante avere anche l'impegno nel tempo. E questo era il nostro ultimo servizio, in chiusura vi ricordiamo i nostri siti internet, telebari.it, radiobari.net e il nostro indirizzo di posta dedicato infocchioccio del segno di zorro.it. Ora vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto e ben ritrovati a tutti i telespettatori. Nella giornata di giovedì ancora una zona depressionale ha posizionato tra la Scandinavia e l'Europa centrale, favorire la diffusa instabilità con occasione per qualche piovasco. Meglio invece ad ovest, quindi sulla penisola iberica, grazie a un nuovo rinforzo dell'alta pressione con ampi spazi di cielo sereno. Ma vediamo la situazione sulla nostra penisola, dove molta instabilità interesserà gran parte del centro nord, una giornata quindi che vedrà molti temporali ed acquazioni, temperatura anche lieve diminuzione, valori massimi non oltre i 18-20 gradi. E infine un'occhiata al sud Italia, perché molta variabilità induggerà soprattutto tra la Sicilia e la Calabria con qualche piovasco, pochino meglio la situazione invece altrove, con clima più asciutto e delle schiarite, così come anche sulla Sardegna. Con questo per il meteo è tutto, ma aggiornamenti come sempre scaricando l'app gratuita di trevimeteo.com Grazie a tutti!